Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello in direzione Roma. In A12 attenzione al personale sulla strada tra la barriera di Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. Per quanto riguarda le statali sulla 67 Tosco-Romagnola chiusura di una corsia per un incidente avvenuto alle 10 in direzione est. In FIPILI personale sulla strada tra Firenze e Scandicci e la Strassigna in direzione Livorno. Per la viabilità cittadina Firenze da domani modifica ad alcune linee di ATAF per alleggerire la zona della stazione di Firenze-Santa Melanovella di almeno 400 passaggi al giorno. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!